Ciao a tutti, giornata fantastica, oggi ho deciso di andare a busca le passerelle questa è la terza volta che vado alle passerelle, questa volta troverò la traccia giusta, ne sono sicuro sono partito con la Specialized e adesso sigla andando verso Costigliole, adesso si vede il Monte Pagliano, devo arrivare quasi sulla cima alla troce di Busca vabbè, qui mi fa prendere la strada per Rossana, seguiamolo un bello scorcio sul Verzuolo, una piccola opera d'arte, un sentiero tra Costigliole e Rossana sulla solita strada dell'Eramo, il panorama è bellissimo, cielo limpido, la piamola là invece là sotto c'è la piamola di Busca, castagne, verso l'Eramo, ed eccomi all'Eramo di Busca, sono quasi i cani che abbaiano, foglie dorate, eccomi qua, invio l'ultima salita a spinta e arrivo alla prossima e adesso vi Busca, ecco qua, c'è scritto discesa impegnativa, ma dietro siamo dietro, quindi non ci resta che dire GONGOLE- GONGOLE- Questa è la cosa di qua 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 Sono arrivato l'altro giorno e io però sono andato a sinistra invece devo andare a destra Andiamo a cacciarci a questo canalone qua Di salti Non ricordo male qua Questa è la cosa di 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 qua Sì questo passaggio è un po' ripido Questa è la cosa di qua Questa è la cosa di qua Questa è la cosa di qua Questo pezzettino qua Questa è la cosa di 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 qua sono uscito, ferito ma poco ferito adesso